Che cos'è il botulismo infantile? Il botulismo infantile è una intossicazione da una tossina prodotta da un batterio che è presente sotto forma di spora nell'ambiente e quindi può trovarsi per esempio nel cibo come il miele per esempio. Quali sono quindi, a parte il miele, i cibi da evitare e in quale fasce di età? Allora, il botulismo infantile è molto frequente al di sotto dell'anno di età e in realtà i cibi da evitare sono tutti quei cibi di cui non si conosce perfettamente la conservazione quindi non sappiamo bene la provenienza perché è una intossicazione prodotta da delle spore che resistono molto nell'ambiente e quindi si possono ritrovare anche dopo anni. Sotto l'anno di età è difficile che un bambino riesca a trasmettere un malessere, almeno a parole. Quindi quali sono i sintomi che possiamo ascoltare per renderci conto che siamo di fronte a un problema di questo tipo? Allora, i sintomi del botulismo purtroppo sono piuttosto comuni a molte patologie del bambino e spesso sono confusi anche dai medici, tant'è che la diagnosi definitiva è abbastanza difficile. Sono bambini che fondamentalmente vengono definiti, il primo sintomo e il più importante, bambini floppy, cioè sono ipotonici, bambini che improvvisamente da che erano capaci di mantenere un tono muscolare, stare seduti, mangiare, cominciano a essere un po' più rilassati, a non mangiare, se sono un po' più grandicelli anche a dire che vedono doppio. Quindi in caso di insorgenza improvvisa di questi sintomi, non presenti in passato, è buona norma cercare anche come causa il botulismo. E quindi andare al pronto soccorso? Assolutamente sì. Quali sono gli esami che permettono poi di arrivare a una diagnosi certa? Gli esami di diagnosi certa sono una serie di esami di primo e secondo livello, che sono esami del sangue per escludere patologie diciamo di natura infettiva, che spesso sono confuse con il botulismo stesso, quindi anche esami invasivi come puntura lombare o altri esami come l'elettromiografia, fino a ricerche sul campo, un po' modello CSI degli americani, a cercare la spora nell'ambiente di casa e andare a vedere se è presente la spora del botulino. Terapia? La terapia è una terapia fondamentalmente sintomatica perché ahimè la diagnosi è spesso tardiva, quindi esiste in Italia la possibilità di avere un antidoto che però riduce gli effetti ma non può eliminare gli effetti già instaurati dalla tossina stessa. E quindi qual è il successo di questa terapia? Il successo della terapia è molto ampio, nel senso che bloccare la progressione della malattia è fondamentale e una volta che viene bloccato l'effetto della tossina, quindi la tossina viene bloccata dall'antidoto e eliminata dall'intestino del bambino, il bambino elimina e esaurisce gli effetti dell'intossicazione che non è ritorno a quello ultimo.